Smash a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video bellissimo, bellissimo come avete già notato oggi pacco opening del volume 100 di One Piece in Italia andiamo ad aprire, vediamo intanto queste rilevature stupende, veramente pazzesche troppo bello eh, wow, lo apri e vedi, io diventerò il re dei pirati che emozione ragazzi, non lo vedete, mamma mia questa roba, oh dio sta in piedi, dio stronzo e tu che è in castraloxica, mamma mia che bello andiamo un po' a vedere, manga con copertina sovrapponibile, volume 100 di One Piece mamma mia che bellezza, che bellezza, stupendo, wow, bella, bella, bella piccoli spoiler, wow, 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 poi abbiamo questa mini pergamena che andiamo dopo ad aprire, e sotto abbiamo la lettera di Akido in giapponese e in italiano stoppatevi il video se volete leggerla bellissima, che io ce l'avevo già nel volume 100 in giapponese, eccolo lì e per completare quella schermata lì ci ho voluto l'ultimo, eccolo qua andiamo ad aprire questo con una pallina bellissima e questo dovrebbe essere il poster oh, a tema one oh, con tutto con tutte le avventure bellissima bellissima mamma mia ragazzi, sto svolando ace, che bello barba nera buggy, bellissima barba bianca felice i migliori ci sono mamma mia mamma mia, stupendo e mamma mamma tanta roba bel, bello, 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 bello speriamo che aumenterà il suo valore per ogni non stampati parecchi andatevelo subito a comprare mi raccomando mamma mia, bellissima bellissima bellissima